Silvante lezione, il frasqualino fa, 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 di sogno pure la notte, la non sono in amore del genere, e fatti la sono capi di capelli? Sì, sì, e te cuicito a vendire i capelli del l'arte, il frasqualino, il frasqualino fa, o se spese a tanto, io a questo ragazzo voglio tantissimo bene, veramente, mi voglio dire che questa è la macchina, sono l'america, sono l'america, sono l'america, Qualcunno vogliamo ringraziare anche il Comitato Festa al Provoco che ti abbia venuto qui, fagli tu un saluto. Ovviamente facciamo un grande applauso a tutto il Comitato, alla Provoco, a tutti i temi di Comitato Lido, a un plato di forte. Adesso noi facciamo un pezzo, un vivo, tutti gli altri, ma adesso vediamo anche la chitarra, questa chitarra non l'ha mangiato? Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!